Allora, io la penso così. Io credo che il vero segreto stia tutto nel togliere. Solo se eliminiamo le sovrastrutture riusciamo per davvero ad arrivare al cuore delle cose. Ma lo facevano anche i Beatles, eh? Lo facevano quando si chiamavano Warren. Lo facevano quando suonavano lo skifford. Il baccalà è pronto, mi sconto, mi è la coletta, mi intenta, si sa. Il mio segreto, l'attenzione certosina che da sempre presto alla cura del mio corpo. Non alla sua profumazione, non alla volgare umettatura, bensì proprio alla valorizzazione del mio corpo. Temperatura 40, umidità 90, un euro è abbastanza per un sorbetto che mi possa rinfrescare, per un sorbetto che ti possa rinfrescare, per un sorbetto che ci possa rinfrescare. Ho sempre preferito una bella bugia ad una squallida realtà. Meglio 32 bianissimi denti disposti e distribuiti lungo due arcate, piuttosto che uno sparuto numero di repellenti, incrostate, opache, protuberanze, improgressivo e disgustoso detrimento. Ma soprattutto a noi cipia, che fantastica, principessa ballerina, seguita stamattina nel fiume per camminare dove vai. Ora siamo atti, sopra il fiume, ti dico amore non ci lasceremo fare. La 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 Grazie.